Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandra e oggi siamo qui con un nuovissimo video Però, prima di iniziare questo video vi dovete iscrivere al canale e cliccare la campanella per non perdervi nessun altro video E ora iniziamo Allora ragazzi, come avete visto, ho questo braccialetto bellissimo, guardate E' bellissimo, lo trovate nel wowkinder e se volete li potete anche prendere voi con... Se avete... vabbè non mi ricordo cosa devo dire Vabbè, comunque oggi faremo un unboxing perché oggi ho comprato l'orologio dei me contro te ragazzi Ebbene sì, ho comprato questo orologio proprio perché volevo, sia che lo volevo, lo volevo farlo vedere i miei compagni di classe E volevo anche farlo vedere a voi Quindi l'ho comprato e niente, andiamo a spacchettarlo Allora, vado Infatti come vedete mi sono messa sul tavolo, anzi c'è la mia scrivania E rompiamo tutto No, ovviamente non rompiamo l'orologio Allora, vediamo se facciamo così Ecco qua Questo è il contenuto E niente, ho comprato una scatola Allora, questo è l'orologio Questo è bello, ma neanche si spiega Allora dai, non scherziamo perché sono troppo concentra E ora come lo strappo più Vediamo un po' se faccio... Oggi è troppo bello, già si vede Ora lo apro e ve lo faccio subito vedere perché non so come aprirlo Ma mi è giusto ad aprirlo, che non riesco Ok Comunque vi voglio dire ragazzi che anche questo Questo orologio lo potete trovare in tutte le edicole del mondo E vi piace da tantissimo perché qui c'è la nota che gira Niente, guardate E non gira Mamma, saluta Ciao a tutti E saluta, non ti vengono Ciao a tutti E non so come l'ha aperto Ecco qua Ok Togli tutte queste cartacce Ah, c'è anche... Sì, sì, vabbè, ok Allora Questo è un libretto di... Ma i mini E i mini, solo questi Oddio ragazzi, ed ecco qua Allora l'orologio Oddio Che bellissimo, ragazzi No, vabbè, ragazzi E' stupendo Allora arriviamo, ora provo ad aprirlo Ecco... No, vabbè, prima di qua ha tutte le targhette, guardate che si alzano e si abbassano tutte gialle Poi continuiamo così Qui, che ha la scritta Mi è contro te Mi è contro te Questo è il l'orologio interno Questa è la parte successiva Ora vediamo se lo giro Wow Listo? Ed è veramente bello Ora Vi faccio vedere come si apre E sono le... Ora andiamo Io voglio andare a verificare Se sono veramente queste ore Che ci sono scritte qua Va bene, ragazzi? Ora vi giro così Riprendo direttamente così Prendiamo l'orologio E andiamo a controllare Se l'orario è giusto Cucina Papi Saluta L'ha aperto Tutto Brotante Bellissimo Bellissimo Ora vediamo Allora Sono le 19 e 7 Vediamo anche l'orario dei telefoni Vediamo su voi Anche se io metto l'orario del telefono mio Che è questo il mio telefono? Ok Le 19 e 8 Vediamo subito se 19 e 8 E sta ancora girando Le metto subito così Allora Vediamo subito 8 e 26 Ok No Stiamo lasciando da soli Madonna Ok Ok